Ho già finito di giocare a Onkai Star Ma come? In che senso? Hai finito la storia? O sei stufo? No, l'ho disinstallato perché ho avuto un momento di realizzazione un po' come Nick Quando aveva il tempo smesso di giocare tipo a Heroes of New World Ok O noi con MapleStory MaipoStory Perché, cioè nel senso, ho usato tutte le risorse che avevo che all'inizio appunto sono abbastanza Perché ne hanno tante, non le ho usate tutte per continuare a fare pool Perché volevo un personaggio specifico di un banner Che sono gli eventi, quelli con una durata specifica, no? Che c'è adesso E adesso tipo l'evento sta, tra virgolette, volgendo al termine Ho finito le risorse e l'altro giorno mi sono trovato ad essere sullo store A guardare quanto avrei dovuto spendere in soldi reali Per averlo detto, ok no, aspetta, fermo un attimo Sono troppo suggestionabile e questa cosa ha potenzialmente troppo potere su di me Quindi è stato un viaggio breve ma intenso Ma basta Troppo intenso è questo il problema E anche il merito di Onkai Star Rail Comunque, bello Bello, no no, bello Continuo a consigliarlo, continuo a trovare che sia veramente Cioè per essere un gioco mobile Cioè veramente applausino Però non la cosa per me Perché mi sono reso conto che poteva essere veramente troppo pericoloso Quindi tutte le persone che mi hanno detto Loro, mandami il tuo codice Scusate, posso anche farlo Ma non mi troverete più su Onkai Star Rail Perché mi sono reso conto che è troppo pericoloso Ciao Sio, quante pizza hai mangiato questa settimana? Ciao Loro, ne ho mangiate ben due Di cui una a ostia, molto buona Ho mangiato una bianca con gorgonzola, noci e fichi No scusa, bere Eh scusa, si chiama pizza Ah, erano frutti Si chiama pizza e fichi La pizzeria Con le pere, buonissimo Non ditelo ai contadini che l'ho mangiata ed era buona per favore E ieri soprattutto ho mangiato Appena tornato dal Romics Ho guardato nel freezer cosa c'era C'era tipo la pizza ristorante Quella La ristorante sono buonissime E infatti era super dignitosa Tra quelle surgelate Io ne prendo da un sacco di tempo E io ne ho mangiate due, nel senso che ne ho assaggiate due Ma tecnicamente era una Perché erano due metà di due pizze Che quindi componevano una pizza intera Quindi hai mangiato quattro pizze No, 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 assolutamente Parlami delle tue otto pizze Oh, cioè Una delle pizze, due anzi Delle pizze migliori che abbia mangiato negli ultimi mesi Qua a Peseggia, voglio dire Cioè qua nei dintorni di Mestre Ah ecco, non a Mestre, a Peseggia No ma giuro, non avrei Cioè tipo pizza napoletana Cioè proprio col cornicione alto Ma c'è tanto alveolato Cioè non quei cornicioni alti Che poi sono tutti panosi Cioè una margherita Regà, quando ti mangi la margherita E dici Dio buono, è la pizza più buona Che io abbia mangiato negli ultimi mesi Ed è una margherita Vuol dire che quella pizzeria Ha capito tutto E una cacepepe Tipo una pizza bianca Ai formaggi Oh, buonissime E sono stra contento E il problema è che appunto È a distanza auto E quindi io non ci posso andare Sulle mie gambe grasse Quando mi pare piace Ma ho bisogno di qualcuno Che mi ci porti Però sono contento Che esista questo posto La distanza auto È solo una distanza a piedi Che non ce l'ha fatta Molto più lunga Molto più lunga Sì È vero Oppure una distanza a piedi Che devi prenderti l'intera giornata Per correre Però per la pizza Ne potrebbe varre Varre la pena Assolutamente E soprattutto Ah non c'è Nick Sbaglio io le parole oggi E dico delle cose sbagliate Ah già non c'è Nick E mi sembrava Kevin Mi sembrava Che ci mancasse qualcosa Sorpresa Nick è a lavorare Come gli stupidi Quindi io e Sio siamo qua da soli Ad annoiarci Ah grazie Nen Che sponsorizza questa puntata More on death later Ciao Ma quindi anche noi stiamo lavorando Tecnicamente Comunque Ho dei grissini Da sgranocchiare E ti avverto Che utilizzerò anche Gli slot di Nick Oggi Perché ne ho tantissimi Partendo da Ametista A CPC Che ci dice Ma vi siete mai accorti Che il primo 9 Di Brooklyn Nine È uguale al secondo 9 Di Brooklyn Nine Wow Io questa La saga del 5 Ci ho anche fatto un reel Da mentre tipo su Instagram Basta Per me la cosa È chiusa lì Nel senso No per me la cosa È chiusa dopo il tuo post Perché non avevo capito Che entrambi i 5 Erano uguali a 2 5 diversi Di canale 5 Ma è quello che ti ho detto Esplicitamente Impuntata Ma era talmente Talmente Era talmente Assurdo Che non l'ho capito Che boggolava la mente Sì sì Non l'ho capito E quindi adesso L'ho capito E wow Confirmed Jerry Scotti Forever 5 ever Assolutamente Assolutamente sì The Ritz Riccardo Su Instagram Illegale Per una volta Mandava letto Perché in risposta A una delle storie Lollone Che avevamo messo su Monza Ci diceva Sì ok La canzone di Giorgio Vanni Per Monza Ma sì È a conoscenza Della canzone per Cuneo Sulle note di Empire State of Mind Che come tra l'altro Ci hanno detto Un sacco di persone Sono appunto Jay-Z e Alicia Keys E non Jay-Z e Beyoncé Come ha detto Nick Ma vabbè Ma fa ridere perché C'è veramente Power Pizza Ive Mind Cioè questa cosa Ce l'aveva scritta Prima del Grissino Che poi aveva letto Nick Nell'ultima puntata Che ci aveva fatto Quindi Niente Queste intersecazioni Di realtà Mi fanno sempre molto ridere Ecco Babbea Ci dice Ma PPP Live In questo caso A Napoli A fine mese Domenica 28 Vuol dire Power Point Battle Ve prego Ditemi di sì Ne ho fisicamente bisogno Allora in questo caso specifico Senza spoilerare Quali saranno i contenuti Della puntata live Forse Forse Ma forse no Perché non possiamo Mungere troppo La cosa della Power Point Battle Perché deve essere una cosa Che succede solo In alcuni momenti Non in tutte le puntate live Che facciamo Quindi può essere Che succeda Ma può essere anche Che sia una cosa diversa Sto vago Perché sembra che Non avevo ancora deciso Al 100% cosa fare Può essere Può essere Tutto può essere Forse Forse Come facciamo a saperlo E comunque Grazie a tutte le persone Che ci hanno aiutato A risolvere Il mistero Di Partendo da Alberto Bosio Che intanto dice Sono così zoomer Che non so nemmeno Cosa significhi burnare Questo non ve lo spieghiamo Però vai a cercare Sull'internet Che è tipo una roba Se scappiva dal contesto O googlando Tipo No Internet Io lo spiego Alberto Bosio Siccome è zoomer Internet è un'applicazione Sul tuo telefono E che tipo È zoomer Non è boomer Ok Ok zoomer Pier Paolo Pasolini Versus Power Pizza Podcast Dice Che il jingle finale È il jingle Di Clone CD Che però è stato Utilizzato anche Su Image Burn Oppure G Scotti dice Mi spiace Deludere l'aspettativa Di tutti Ma la realtà Infatti è che sia Un ludopatico Perché ho in mente Questo suonino Ogni volta che da piccolo Andavo a trovare Mio zio in tabaccheria Era il suono Della vincita Al 10 e l'8 E anche questo Ce l'ha scritto Un botto di gente Che è la musichetta Ma anzi Aspetta un attimo Tu prima di rispondere A tutti questi grissini Cioè hai ascoltato E hai verificato Qual è effettivamente Ho ascoltato Tutti questi suonini Sono tutti lo stesso suonino Ok Perfetto Perfetto Dopo vi dico Da dove viene Nella mia mente Però nel frattempo Behelith La coq Dice Non so se ci entra Effettivamente col video Ma il motivetto Mi ha subito ricordato Un jingle Della DNA Productions Che è effettivamente Quel jingle Di nuovo Ma Kamehame Kai Ci svela Da dove viene Originariamente Questo suono L'origine proprio Ok Wow Sì Deriva da un vecchio giochino Del 94 per Mac Chiamato Ants a Fire Lo sentivi Quando completavi i livelli Venne riutilizzato poi Dal programma Image Burn Che serve a masterizzare Le ISO Cioè che Serve a fare i cd Per gli zoom A burnare Come diciamo In Italia Puoi sentirlo in tabaccheria Quando realizzi Una vincita all'otto Praticamente Tutti questi jingle Sono corretti Ma viene Originariamente Da questo gioco E io lo conoscevo Per Image Burn E tra l'altro Loro Per aumentare il mistero Ha deciso di tagliare Il pezzo che gli avevo Fatto Della scorsa puntata Perché l'avevamo già scoperto Che era il jingle Di Image Burn Ma non avevamo Tutti questi dettagli Allora Sapevo che Ad aspettare una settimana Avremmo avuto Molte più risposte A cui tra l'altro Io moltissime persone Ho risposto in maniera Super maleducata Dicendo Sì sì certo Ognuno di voi Ci sta rispondendo E ognuno di voi Ci sta dicendo Una cosa diversa E poi in realtà È stato creato È stato creato Grazie Il negozio Per rendere questa cosa Un lavoro umano Che sono tipo Due dollari Del tutto Questa rivoluzione AI Fantasia umana Incredibile Incredibile Comunque a proposito Di fantasia umana Ti ricordi quando ho detto Che sia l'Unione Europea Che il Department of Justice Il DOJ Statunitense Stava iniziando a dire Apple cambia delle cose Perché hai delle pratiche Monopolistiche Eccetera eccetera E una delle cose Che appunto Succederà presto Nell'Unione Europea Saranno gli app store Alternativi E uno dei motivi Per avere degli app store Alternativi Era il poter Scaricare applicazioni Tipi di applicazioni Che non sono Ammesse Sull'app store ufficiale Ok Come per esempio Gli emulatori Ok sì Che non erano ammessi Che lo dicevi in puntata Esatto 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 Indovina che cosa ha fatto Apple adesso Ha ammesso Ha cambiato le regole E sull'app store ufficiale Adesso ci possono essere Gli emulatori Ok Proprio sull'app store normale Che era l'outcome Che volevamo No in teoria No questo sì Nel senso che comunque Di base Tutte queste rotture di scatole Portano A delle modifiche Che da soli Non farebbero mai Non è che Da come me lo stavi raccontando Pensavo ci fosse un twist Alla fine Ah sai cosa ha fatto Alla fine Apple ha bruciato Mille gattini Perché no Invece no Ok L'esito Per il momento Può anche essere positivo Tra l'altro scusa C'entra e non c'entra Tu Eddie Borbach Lo conosci su YouTube Un tizio coi baffoni Ok ho visto ieri Un suo video Mentre facevo altro Pulivo casa Avevo i piatti Un video che è uscito Una decina di giorni fa Che si chiama L'incubo da 3500 dollari Di Apple Che è un video Sull'Apple Che è molto gheggone Nel senso che fa anche ridere Tutto quanto Però individua anche delle Non le chiamerei neanche Delle criticità Sono delle cose abbastanza banali Nel senso è ovvie Basta che ti spieghi un attimo A pensare Però fa ridere Perché ovviamente Il video è prodotto bene È divertente Quindi se vi capita Buttateci un occhio Ecco Io tra l'altro Uno dei miei podcast preferiti Accidental Tech Podcast ATP Ok Loro sono tutti e tre developers Sono tutti e tre sviluppatori E tutti e tre fan di Apple E due su tre Si sono comprati L'Apple Vision Pro E comunque Due mesi dopo Uno ha gli occhi Che non riesce a usare L'Apple Vision Pro E dice Boh Cioè È in un cassetto L'altro si vergogna A usarlo in giro E non ci sono applicazioni E comunque Parlano Sì parlano costantemente Del fatto che Tecnicamente È incredibile Ma non c'è niente da fare È quello Perché è una piattaforma Chiusissima È quello che mi fa impazzire Perché Apple È abituata Al fatto che iPhone ce l'hanno Un miliardo di persone Letteralmente Quindi La gente automaticamente Sviluppa delle cose Dei contenuti Per il loro telefono Eppure iPad Ce ne sono abbastanza Mac Non ce ne sono un miliardo Ma è una piattaforma Aperta Quindi appunto Puoi farci un po' Quel cavolo che vuoi È un computer vero Come i computer Windows Questo Hanno lanciato Un oggetto Chiusissimo E si stupiscono Che nessuno Abbia voglia Di svilupparci Delle cose No quello Ma poi mi ha fatto Anche un po' È molto patetico Onestamente Perché appunto Ok Tu lanci questa cosa Da prodotto super elitario In questo momento Per un discorso di coste Tutto quanto Però dici Almeno le cose Che voi come Apple Ci mettete sopra Non so Gli dedicherete Un briciolo D'attenzione E invece c'è tipo Lui che dice È di Burbank Che dice Adesso giocherò Ah guarda Sullo store c'è Jetpack Joyride Mi ricordo quando ci giocavo Tipo alle superiori Aspettandosi che sia Fatti in una maniera Che sia Non so Un pochino più immersiva E invece semplicemente Ti apre davanti una finestra Che dice Wow è letteralmente L'app dell'iPad Soltanto che lo sto vedendo Attraverso un visore Che mi è costato comunque Più di 4000 dollari Perché poi lui tra l'altro Come me ha gli occhiali Ma dice È l'unico visore Che non posso usare Con gli occhiali Io ho dovuto ordinare Altri 600 dollari Di lenti Fatte con la mia prescrizione Da mettere dentro Perché non lo posso indossare Sui miei occhiali E dici Wow c'è un sacco di cose Ma che comodo è Non dover usare gli occhiali E mettersi sopra Però una faccia In dei mega occhiali Cioè E quindi ecco Lolleroni Come diciamo noi Noi zoomer Vabbè comunque mi arriva La settimana prossima Ne ho comprato i due Perfetto Perfetto No assolutamente Va bene va bene Comunque vi ricordate Quando un po' di tempo fa Ho detto Ah che bello Questo libro di fantascienza Di Cixin Liu Il famoso Il problema dei tre corpi Ma che poi Aspetta Ma tu ti ricordi Questa cosa Il problema dei tre corpi È successa Tre mesi fa Sei mesi fa Quattro anni fa Tanto tempo fa Tantissimo Ok Tali mesi e tanto tempo fa Che io Il Jennifer JPEG 2 Si chiama Il problema dei tre corgi Ed è uscito tipo Nel 2020 Ah wowissima cosa Quindi Chiedevo appunto Perché io delle volte Non ho la percezione Del tempo E cose che Magari su Power Pizza Ne abbiamo parlati Sei anni fa Non esisteva ancora Sei anni fa Però Capito E invece credo Che siano state cose Degli ultimi mesi Ok ok Comunque scusa Problema dei tre corpi Era di tanto tempo fa Ero in fissa Evidentemente Nel 2020 Col problema dei tre corpi E oltre Ebbene Come saprete E come saprete Dalla campagna pubblicitaria Interessante Che hanno fatto E visto che Hanno messo su I tabelloni Della stazione Al posto delle partenze C'era scritto Siete insetti In varie No Ho visto i meme Che facevano riferimento A questa cosa Ma non ho visto La cosa originale Era guerriglia Marketing di Netflix Per promuovere Il problema dei tre corpi Che poi è un po' Quello che fa sempre Netflix Perché loro Al netto Cioè della qualità Effettiva del prodotto Cos'è che ho detto? Al nettoflix Scusami Al nettoflix Della qualità Di quello che effettivamente Devo spingere Quello che fanno È promuoverlo In una maniera Iperaggressiva Tipo È onnipresente Aspetta Per L'1,0% Delle cose Che fanno Perché producono Un miliardo di cose Che poi dopo poco tempo Vanno nel dimenticatone Diciamo le cose Che vogliono Quelle su cui Spendono tanti soldi Che vogliono Spingere particolarmente Assolutamente Io immagino Che abbia speso Un sacco di soldi Perché hanno Assoldato I famosissimi Benioff e Vice Quelli delle ultime Stagioni Dei Game of Thrones Anche quelli Delle prime Stagioni Dei Game of Thrones Ma soprattutto Quelli delle ultime Stagioni Più che altro Quelli delle prime Ma quando c'era ancora George Martin A dargli tipo Una direzione Poi quando Mi è stato George Martin L'hanno detto E hanno iniziato A mangiarsi Le scarpe Tipo Quindi sì Loro due Certo Letteralmente È accaduto Comunque Questa serie Parte dal fatto Che ci sono già Tutti e tra i libri Benioff e Vice Adatteranno delle cose Che ci sono già E quindi già Di partenza Non si devono inventare Niente Solo che si sono inventati Delle cose Però Perché allora La serie dei tre corpi Innanzitutto Dal trailer Spoiler Alla quarta Di copertina del libro Perché c'è sempre Sta cosa Con i tre corpi Ogni volta Vabbè ma perché Capisco Che vogliono parlare Di Che questa serie Parla di cose Di fantascienza Ben specifiche Che io non spoilererò Perché ho già spoilerato Quando ho recensito Il secondo libro Della serie dei tre corpi Non ricordo niente Sono passati Più di due settimane Quindi Appunto Detto questo Long story short Mi sembra che la serie Netflix sia interessante E noiosa Ok Me la sono vista tutta Mi spiego Rimescola un po' tutto Perché ci sono un sacco Di personaggi Che non esistevano Nei libri Ok Alcuni dei personaggi Sono accorpati In uno singolo Altri che erano cinesi Diventano londinesi Perché la serie Viene spostata a Londra Perché tutti i personaggi Erano praticamente Tutti cinesi Nel libro originale In generale cercano di fare Comunque una cosa necessaria Perché il libro avveniva Come in Dune Non l'ho ancora letto Ma lo leggerò presto Sulla fiducia Come in Dune Ok No però appunto Come in Dune Il libro avviene in gran parte Nei ragionamenti interni Dei personaggi 100% come in Dune Allora Ok E quindi Cervello delle persone Che pensano delle cose In una serie Inquadrare una persona Per 5 minuti Mentre fa un ragionamento Con il riverbero Della voce Del pensiero Non è particolarmente divertente E quindi fai dialogare Dei personaggi E questo La rende un po' più dinamica Molte cose sono semplificate Ma molte altre cose Non sono semplificate E quindi In questi 8 episodi Ci sono tipo 16 momenti Di infodump Abbastanza pesante Ok Che 3 ci stanno 8 sono ok Aspetta hai detto Quanti episodi 8 episodi Ah ok Ho sentito 16 Mi sono distratto un attimo Ho detto 16 momenti Nella frase c'erano due numeri E avevo avuto un attimo Di disconnect Adesso ci sono È stato velocissimo Comunque sia Ci sono alcuni infodump Che sono abbastanza Una noia da vedere Soprattutto se hai letto il libro Ma anche la mia compagna Con cui ho visto La serie Cioè in un paio di punti Ha detto Sì però che palle Cioè stanno spiegando robe Da 3 minuti Cioè stanno proprio dicendo Delle cose Infodump Un po' totale Il bello È che la storia È il nucleo Della storia Quello che succede Che ve lo spiego brevemente Da dove parte Comunque almeno Questa serie Trigger warning Suicidio Perché la storia Inizia così Tanti scienziati Della terra Si stanno ammazzando Perché la scienza È rotta Sostanzialmente Non si riescono più A fare Cosa vuol dire Questa frase Non funzionano più Gli esperimenti E la gente impazzisce Cioè gli scienziati Giustamente dicono Cosa Cioè cambiano Le leggi della fisica Cioè io faccio gli esperimenti Che mi facevano fare Tipo all'elementari E non vengono Praticamente Continua a aggiungere Del sale nell'acqua E continua a sciogliersi All'infinito Continua a sciogliersi Ok wow Ok E nel frattempo C'è questo misterioso videogioco In un misterioso Oculus Quest Centomila Avanzatissimo A cui giocano Solo alcune persone Invitate Da chi? Boh Il cui scopo Del videogioco Non è chiarissimo Ma è un gioco Di realtà virtuale In cui seguiamo Le avventure Di persone molto intelligenti Che cercano di capire Che cos'è questo videogioco Cosa sta succedendo Alla scienza Al mondo Ok Infatti Cioè l'incipito è bello Cioè nel senso L'idea È un'idea di storia intrigante Ti fa naturalmente pensare Che vuoi sapere Come andrà avanti tutto Sì 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 Ma la scrittura dei personaggi E in generale Un po' il ritmo E i dialoghi Sono ok Ma non è che hanno Tutta sta personalità Che Ok È come il libro Il libro Sì infatti Va bene Però Nel testo almeno Può andare alla tua velocità Può entrare di più Nel ragionamento interno Dei personaggi Quindi Stai proprio pensando Tantissimo Insieme a loro E puoi pensare Un po' di più Alla storia Come personaggio principale Non so se mi spiego Mentre qui siamo costretti A seguire tutte queste attore Che fanno delle interpretazioni Medie Ok Sono tutti preoccupatissimi C'è l'investigatore Edgy Che parla solo con One liners Forzatissime E in generale Non ti affezioni A nessuno Dei personaggi Tipo Quando sono in pericolo Ho visto il mio cervello Che diceva Dai che magari muore Così succede qualcosa Anche se era un personaggio principale Se ci devono essere dei cambiamenti Almeno che qualcuno muoia A sorpresa No ma A parte la cosa Scusami Dei personaggi Che ok Vabbè Le hanno fatto un po' Una roba Il problema dei tre corpi Cos'è Nel tre libri Giusto? Tre libri Questo è il primo libro Ok il primo libro Perfetto E la vicenda Cioè nel senso è fedele Hanno cambiato anche quella Abbastanza fedele Nel senso che comunque La vicenda è più o meno quella E Cioè si prendono diverse libertà Ma grandi linee Ci siamo Cioè è il libro Podcast giornaliero Di Breaking Italy Che un giorno sarà dedicato Solo agli iscritti A Breaking Italy Club Un giorno fa cento anni Comunque c'è un personaggio bello Che è la parte migliore Della serie Che era anche Secondo me È la parte migliore del libro Sono i flashback Di questo personaggio Si chiama Ye Wen Ye Nella Cina Degli anni sessanta Che è l'unico personaggio Che viene approfondito Organicamente nella storia Vediamo che Proprio che ha un arco narrativo Che le succedono delle cose All'inizissimo Proprio della storia Durante la rivoluzione Culturale cinese A metà del secolo scorso E le succedono delle cose Alla sua famiglia Le succedono delle cose personalmente Inizia a pensare In un certo modo E poi prende delle decisioni Che poi avranno Degli straci Ramificazioni Nella storia E sono le parti interpretate Anche meglio Ma sono anche le parti Prese pari pari dai libri Non hanno cambiato niente Poi boh La CGI è ok Non è eccellente La musica Abbastanza bravi La regia Non è niente di speciale È funzionale Diciamo Cioè insomma È una serie Che come i libri Secondo me Si regge unicamente Sulle macro idee Che danno il via Alla storia Che ammetto essere Mega interessanti Eh ma infatti Non dovrebbe essere Cioè la cosa un po' Cioè la colonna portante Cioè la roba mega matta Si però Vengono sviluppate Bene nel libro Vi consiglio di più quello Se vi piace leggere Ma se avete voglia Di vedere dei personaggi Che comunque interagiscono In maniera interessanti Cioè le interazioni Non sono la cosa interessante Ok E quando uno spiega A qualcun altro Cosa sta succedendo Tu pensi Wow Cosa sta succedendo Ma non è interessante Vedere loro Che interagiscono Sono un sacco di persone Sedute a dei tavoli Che parlano Ok Varie volte in cui Una persona spiega Su una lavagna Delle cose E ci sono tantissimi momenti In cui spiegano La cosa in più Perché il pubblico È stupido E quindi Io alzo la mano Perché allora Io mi ricordo E mi ricordo Intendo mi ricordo Molto vagamente Che quando parlavi Dei libri Appunto dicevi Ah incredibile Quanto Cicillio Abbia delle idee Mattissime In culo Delle cose che dici Oh Non sai mai Che cosa aspettarti Perché continua A tirarti via Il tappeto Da sotto i piedi E ti continua A trovare la testa in giù Nel senso positivo Soprattutto nel terzo Secondo me Ok Ok Allora Però la mia domanda è Forse che è difficile farlo Perché appunto Tu i libri li hai letti E te li ricordi pure bene Però Secondo te Una persona come me Che non ha letto i libri Che si va a vedere la serie Nel senso Cioè a livello appunto Di Lascia stare i personaggi E le interazioni A livello di vicenda matta E di interrogativi Di cose che ti tengono attaccato Perché dici Oh wow Cosa sta succedendo Come andrà avanti la cosa C'è questa sostanza Nella serie O no Perché si sono concentrati Più su altre cose Secondo me Se non hai letto i libri È una fetta di pizza in più Nel voto Almeno Ah ma pensavo in meno Che è in più Perché giustamente dici Non hai il paragone Perché non ti sei spoilerato Le idee fighe Nei libri Cioè nel senso A me è sembrata Ok Proprio perché I momenti fighi Sapevo che stavano arrivando Sono comunque resi Abbastanza bene Però Non mi ha fatto esplodere il cervello Perché comunque Quel tipo di cosa L'avevo già vista Ci sta Comunque Se avete voglia In una serie di fantascienza Un po' tranqui Senza grosse pretese Con qualche piccola perla Quella Non fa schifo Non è brutta È fatta bene La storia interessante Non è dieci fette di pizza Cioè La mia esperienza personale Sono sei e mezza Fette di pizza bianca Con moltissimo tartufo bianco E un chicken nugget È la madonna Cioè il tartufo bianco Scusa Hai presente quanto costa Cioè hai appena creato La pizza più costosa È per il budget Che ha speso Netflix No no in generale C'è proprio il mood Dici Ok 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 È ricercatissimo Interessante Ma è un po' uno spreco Appunto usarlo così Ok ok Ci sono anche alcune scene Un po' crude Visto che sono Quelli di Game of Thrones Ci tenevano a trucidare Della gente Facendo vedere degli intestini Così Ci stanno eh Però nel senso Accadono anche nel libro originale Ok ok Però comunque Di base Secondo me è meglio Se non hai letto il libro Sì Mi stupisce un po' Appunto sentirti così Look warm Così tiepidino Su una cosa che appunto I libri Un po' quando ne avevi parlato tu Ma proprio in generale Quello che ho sentito Dalle persone che lo leggevano Era uno di quei Momenti della fantascienza Notevoli Cioè nel senso Uno di quei libri Che Non dico che facciano Da spartiacque Non lo so Non l'ho letto Però uno di quei momenti Veramente memorabili Della fantascienza moderna E invece c'è nel senso Me ne stai Appunto veramente Mi hai detto È una serie che Boh sì Senza pretese Se avete voglia di vedervi qualcosa Guardatevelo C'era le sue idee carine Però non so come dire Lo vedo quasi più come una colpa Se il materiale di partenza È così eccezionale E tu ne tiri fuori Una serie che è Posso che è la prima stagione Di due o tre Che adesso faranno Non so Spero siano almeno tre Perché comunque Cioè Il secondo e il terzo libro Sono densissimi Ci hanno speso tipo 640 milioni di dollari Cioè hanno speso veramente Le cifre altissime Cosa Adesso vado a cercare il budget E quindi c'è nel senso La vedo quasi come una cosa Ancora più negativa Senza una cosa così Groundbreaking Ci tiri fuori una serie Che di fatto è Mediolina Però ok Già viva che non faccia schifo Immagino poi magari Con la seconda e terza stagione Invece alzano il tiro E tutto guadagna più Non so Più patos Più Speriamo Non so cosa sto dicendo Poi c'è appunto Questa è la partenza della storia Cioè mi viene voglia Di rileggere il libro Sicuramente Perché dico Ah sì Adesso ho voglia Di rivedere Come erano raccontate lì Però sì Ok Ok Niente di groundbreaking Sicuramente Benny of the Vice Sono più i Benny of the Vice Delle ultime serie Che quelle delle prime Sicuramente È un materiale diverso Da adattare Perché Game of Thrones Non ho letto i libri Non so se tu li avevi letto qualcosa Li ho letti tutti Non ho Parliere particolarmente Buono Anche dei libri Onestamente Però come struttura C'erano tanti dialoghi Sì 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 È più facile da adattare Una roba del genere No? Sì e no Non mi addentro adesso In questo discorso Perché è veramente complesso Oh Benny of the Vice Io continuo a pensare Che se fossero andati A fare Non so I tennisti Invece che gli Rieneggiatori Magari Sarebbe stato Un mondo migliore Ma questa è solo La mia opinione Una cosa che invece Trovo estremamente positiva È che tu abbia potuto vedere La serie dei tre corpi Come cazzo si chiama Sì Perché avevo l'elettricità in casa Esatto Esatto E come dicevamo all'inizio Anche questa puntata È sponsorizzata Da Nen Nen Forse saprete Se ascoltate Favorvizza di solito È Prima che lo dica Sio Sì Il potere di Hunter Hunter L'energia magica di Hunter Hunter Ma è anche un fornitore Luce e gas Di energia green Per davvero Tra l'altro Come vi abbiamo già detto È bello Perché prende la bolletta E ve la spalma In dodici mensilità uguali Per Pace della mente E sapere Quanto andrete a spendere Ma Il bello Che è la cosa Su cui forse Non ci siamo mai Soffermati È che Quando si parla di energia Di fornitori Di energia È sempre un cacao Meravigliao Di contratti illegibili Di termini super astrusi Di concetti spiegati Con mille giri di parole Per renderteli più appetibili E tutto quanto Nen fa una cosa Che io trovo Iper rinfrescante Che è Usa l'italiano Usa l'italiano Esattamente Cioè punta Tutta la sua comunicazione Su un italiano Semplice e comprensibile Perché ha questa idea Che io condivido Totalmente Rivoluzionaria Non è rivoluzionaria Ma è corretta Che il linguaggio Possa essere Semplicemente Un modo Per veicolare Delle informazioni In un ulteriore Ostacolo Quando già ti stai Mettendo a fare Una roba complicata Come tipo Scegliere un provider Di energia diverso O robe di questo tipo E quindi tutto Dal loro sito Alla parte contrattuale È scritto In un italiano Umano E comprensibile Senza Burocratismi Matti in culo Non dico in culo Perché è la parte sponsor E ci tengo ad essere educato Non diremo mai culo Durante lo sponsor Esatto E quindi Cioè Veramente Questa è una cosa Che apprezzo tantissimo Di Nen Sì Sarebbe anche bellissimo Se potessimo Perfino risparmiare Ulteriori soldi Passando a Nen Grazie a noi Sarebbe veramente molto figo Sì 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 No comunque È molto semplice Passare a Nen Basta andare su Ciao.Nen.it Se ci mettete Slash Powerpizza Vi regalano anche 48 euro Spalmati nelle prime 12 bollette Ma Ma solo se fai un'altra cosa Oltre ad andare Su Ciao.Nen.it Slash Powerpizza Devi usare Un codice Segretissimo Pizza elettrica Che però Viene automaticamente Messo se andate su Ciao.Nen.it Slash Powerpizza Tra l'altro io Ti faccio una domanda Allora io che non ho il gas Posso avere solo L'elettricità Da Nen Sì 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 Assolutamente Beh immaginavo Non ho chiesto Una cosa in più Puoi fare assolutamente Questa cosa E quindi Grazie Grazie Nen Grazie Nen Della sponsorizzazione E per non ho il gas Intendevo che non ce l'ho in casa Ma nella pancia Quando mangio i latticini Ne ho moltissimo Chiaro Grazie per avere specificato Questa cosa ulteriore Necessaria Ascolta tu hai visto I tre corpi I problemi dei tre corpi No No non ho visto i tre corpi Ho finito di vedere Ho finito È scritto tra virgolette Adesso ti spiego Ho finito di vedere Un'altra serie Che mi stavo guardando Nell'ultimo mese Mese e mezzo Che tu avevi già visto E di cui avevi già parlato Tu su Powerpizza Ma come dicevo prima Io non mi ricordo Quanto tempo fa Abbiamo parlato Delle cose su Powerpizza E confido che le persone Che ci ascoltino Esattamente come noi Non si ricordino le cose Quindi comunque Ve lo dico ex novo Sto parlando ovviamente Di Ted Lasso Ah credevo Girls canale 5 Non lo guarderò mai No Ted Lasso Ma perché mi avevi incuriosito In realtà mi avevi incuriosito Molto medio Però poi ne avevo sentito Dalle altre persone Che mi dicevano È una serie carina Gradevole Davvero buttagli un occhio Poi era una premessa Che un pochino Mi incuriosiva E ho quindi detto Va bene dai Me la recupero Che fatica Allora Ted Lasso È una serie creata Da Jason Sudeikis Che poi interpreta Anche il protagonista Appunto Ted Lasso Da cui il titolo Adesso ho capito il titolo Si chiama come protagonista Ted Lasso Il protagonista E Bill Lawrence Che è quello di Scrubs Ha fatto Allora ha fatto un botto di roba Ma principalmente Il creatore di Scrubs Allora È l'esempio perfetto Questa serie Di come qualcosa Possa rovinare Retroattivamente Anche le parti positive Perché allora Sono tre stagioni È finita la cosa Cioè la prima stagione È godibile Godibilissimo Onestamente Posso dirti Prima che tu cominci Dove sono arrivato io Io ho visto la prima La seconda E parte della terza E poi non ho avuto voglia Di andare avanti Eh ma posso capirla Questa cosa Perché appunto La prima è assolutamente godibile La seconda È comunque ok Poi ha delle valli Veramente Dei baratri Di una cosa Però mediamente È una serie Che ci Una stagione Perdonami Non devo fare come fai tu Una stagione Ancora dignitosa La terza stagione Cioè Sono dodici puntate totali Però Però dodici puntate Come inciso La prima stagione Sono puntate brevi Sono tipo mezz'ora Una roba del genere Già dalla seconda O dalla terza Adesso non mi ricordo Diventano Super gonfiate E diventano praticamente Un'ora puntata Inutilmente Se chiedi a me Ok Non me la ricordavo sta cosa Quindi La terza stagione Cioè Sono dodici ore Voglio dire Ora Dodici ore Io le investo volentieri In qualcosa Se è un qualcosa Che mi piace Ma il problema È che la terza stagione È spazzatura Voglio dire E quindi Io sono arrivato Alla sesta puntata Ho guardato Quante me ne rimangono Ho detto Col cacchio Che mi guardo Altre sei ore Di sta cosa Per completezza Ho detto Mi guardo l'ultima Così giusto Per avere un'idea Di sai Dove va a parare Di com'è la conclusione Di tutta la faccenda Ma è L'ultima serie Cioè Il tre È la conclusione Di Ted Lasso Il tre è la conclusione Di Ted Lasso Ok Sì E allora La premessa cos'è Praticamente C'è questo allenatore Statunitense Di football americano Quello con le imbottiture Che si prigliano A capocciate Che appunto Ted Lasso Che arriva in UK Dopo che è stato Dopo essere stato assunto Da un club Di serie A L'equivalente Della serie A Perché se c'è qualcosa Che ho imparato Vagamente È come funziona Il calcio inglese Cioè nel senso La Premier League Dovrebbe essere L'equivalente Della nostra serie A E appunto Viene assunto Per fare D'allenatore Alla loro squadra Di calcio La squadra È il Richmond One day UFC Che nella realtà Non esiste È chiaramente È stato inventato Per la serie Però ok Riuscirà Questo tizio Che non sa Assolutamente Niente di calcio A riportare Verso le vette Della classifica Questa squadra Che è un po' Traballante Un po' Sempre verso La retrocessione Eccetera Eccetera E soprattutto Perché hanno preso Uno ad allenare Che non sa Assolutamente di calcio Queste sono risposte In realtà Che abbiamo già Nella prima stagione Che come dicevo È anche la migliore Allora il setting Ovviamente Dato che appunto C'è allenatore Statunitense Che va in Inghilterra È l'Inghilterra Ma l'Inghilterra come? È l'Inghilterra Degli Stati Uniti È l'Inghilterra Immaginata Da quei fenomeni A stelle strisce Cioè Hai presente Hai presente Venice A Las Vegas Sì Che è la riproduzione Di Venezia Sì Con la gondoletta Sull'acqua cristallina E il palazzo ducale Sì Questo è l'equivalente Di Venice A Las Vegas Per l'Inghilterra Che in parte Posso anche capire Che sia anche voluto E sia tonalmente adeguato Alla serie Perché la serie Vuole essere Molto wholesome Molto positiva Anche quando parla Di piccoli drammi personali Di problematiche Lo fa sempre in una maniera Molto leggera Molto positiva Lo stesso personaggio Principale Principale Punto di domanda Che comunque è Ted Lasso Cioè praticamente La sua caratteristica Cos'è? È di essere Questo tizio qua Iper positivo Iper wholesome Che non sa Un cazzo di niente Mai Però è sempre Quello che Ha un cuore grande Vuole aiutare le persone Non giudica nessuno E tutto quanto Porta le medicine Alle bambine Dall'altra parte Del fiume Sì Un po' al cucino I brownies Non i brownies Ma i biscottini Al mega burro Sì esatto Tutte queste cose qua Che dici Cioè in realtà adesso Io gioco sempre a fare Il cinico senza cuore Ma non lo sono Maledizione Cioè un personaggio Molto positivo Voglio dire Cioè mi fa anche piacere Può essere anche Rinfrescante onestamente Il problema è che Ci devi fare qualcosa Con questo personaggio E la serie Ha il problema principale Tutta la serie Che con tutta una serie Di cose che mette In scena Non sa cosa Cioè non sa se avessero Delle idee all'inizio E se se le sono perse Per strada O se in realtà Hanno fatto La classica JJ Abramsata Che hanno buttato lì Delle cose Ma già dall'inizio Non sapevano In che direzione Sarebbero andati Ma appunto Ted Lasso Il setting Sono messe lì Ma poi sembra Che non sappiano Effettivamente Come sfruttare la cosa Cioè prendi banalmente L'esempio del calcio Passo indietro Dietro le quinte Allora da quello Che ho capito io Ted Lasso Nasceva come personaggio Interpretato da Jason Sudeckis In tipo Uno schiccettino Mini sketch di SNL Esatto Non SNL Mi sa un'altra Un'altra cosa Però vabbè Comunque un emittente Statunitense Una roba che si occupava Di sport Doveva fare La copertura Della Premier League Inglese No E avevano fatto Questo personaggio qua Appunto Ted Lasso Che boh Fa l'allenatore calcio Non lo so È piaciuto È diventato una serie Però il discorso è Se tu scegli Un personaggio così positivo Se tu scegli Il calcio come Cornice In cui ambientare Le tue vicende Ci deve essere un perché Cioè O conosci Ami così tanto Lo sport Da volerlo sfruttare Come analogia Per le tue vicende Diciamo il modello Spocon Infatti io nella prima stagione Mi aspettavo sempre Che Ted Lasso Arrivasse lì Non sapessi una fava Di niente Ma poi ci fosse Sai Non so Man mano Diventa meglio Come allenatore No Che le vicende Di crescita personale Siano legate Alla crescita Della squadra E dello sport Proprio Modello Spocon O in alternativa Che vuoi usare Lo sport Proprio per contrasto Nel senso Parliamoci chiaro Il calcio Non è un ambiente Così wholesome E zuccherino Tifoserie Un certo tipo Ambiente comunque Misogine e tossico Tutta una serie di cose Quindi per contrasto Ci metti questo personaggio Estremamente positivo E invece non fa nessuna Delle due cose Cioè sembra che Abbiano tirato un dado E gli sei uscito Ok usiamo il calcio Per fare questa serie Ma non Perché Non si sa Perché Perché è basato Su questo skit Nel senso Sì È questo No 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 È questo il motivo Nel senso Non hanno deciso Che c'era un motivo Hanno cercato di A posteriori Razionalizzare Tutta la storia Ma la storia Era già decisa Che fosse questa Però non ha senso Questa cosa Eh sì Non ha assolutamente Senso Perché appunto Ti ritrovi ad avere Tutta una serie di situazioni Tutta una serie di personaggi Che le scrittrici E gli scrittori stessi Della serie Sembra che non sappiano Esattamente Non sappiano bene Che cosa farci Poi tra l'altro Cioè nel senso Io come dicevo prima Posso anche trovare Rinfrescante Un personaggio Estremamente positivo Però non è che basta dire Ah non è positività Tossica Per non esserlo Perché tipo Nella prima stagione Questa cosa qua Viene tirata in ballo Un attimo Ma io al netto Di tutta la serie Ma è assolutamente Positività tossica Io c'è questa serie L'ho trovata L'affrontano nella seconda stagione Però sta cosa L'affrontano nella seconda stagione Occhio Perché allora Per me c'è differenza Tra affrontare una cosa E avere una checklist Cioè Esplorare qualcosa Per me vuol dire Che ti immagini Una situazione E i possibili risultati Poi ovviamente magari Declini l'esito Di questa situazione In una maniera Più realistica O più hopeful E speranzosa A seconda del messaggio Che vuoi veicolare Però esplori Effettivamente qualcosa Una checklist È semplicemente Buttare lì delle cose E poi trattarle Nella maniera Più superficiale Possibile Anche in maniera Totalmente irrealistica Appunto Lui che Allena Senza sapere assolutamente niente Nel calcio E ci sono i tifosi Che si Gli dicono Wanker Ma poi in realtà Si vogliono tutti bene Regà È comico In maniera Involontaria Perché veramente Non E questa cosa Della positività Tossica del personaggio Cioè Alla fine Ted Lasso A parte il suo essere Appunto Estremamente positivo Estremamente di buon cuore Non ha nient'altro Al suo personaggio Cioè La fine della terza stagione Molto molto poco La fine della terza stagione Lui ha passato magari Dei momenti di difficoltà Ma Il cuore del personaggio È rimasto Pressoché invariato Dall'inizio della prima stagione Per assurdo Ci sono dei comprimari Che sono meglio di lui Voglio dire Mi vengono così banalmente Roy Kent E Jamie Tart Tipo In minor parte Kili nella prima stagione Sembrava l'MVP Poi è il personaggio Che viene più Sprecato e rovinato Nell'ultima stagione Però ci sono magari Dei comprimari Che Su cui la serie Fa meglio Ma vanno comunque Poi In un niente di fatto L'ho trovato Estremamente frustrante Perché appunto Mi sembra Come dice Meandering In italiano Che va un po' a caso Continua a girare Su se stesso Poi appunto Con queste puntate Che diventano Progressivamente Sempre più lunghe Senza una vera ragione Cioè Ci sono tutta una serie Di cose buttate dentro Perché Ah Tizio gay Che fa coming out E tutti lo supportano Tizio Che ha Una relazione Un po' particolare Ma tutti si vogliono bene Ah Il figlio Fa il bullismo Ma tutto si risolve E tutti si vogliono bene Cioè sembrano tutta una serie Veramente di cose Che hanno detto Oh le mettiamo dentro Perché sono temi Che piacciono alla gente O che possono risuonare A livello emotivo Però poi non esplorano niente In una maniera Cioè nel senso Significativa Che implichi Una crescita vera E magari anche Insomma Una crescita più difficoltosa Boh Non lo so Cioè Ti giuro Per me È come se ti portassero Un cartone di pizza Con dentro Una pizza con le patatine fritte Che ne mangi le prime te E dici Beh Pizza con le patatine fritte Ma comunque ci sta Voglio dire Ne mangi altre tre Inizia ad essere Un pochino appesantito Ma comunque Ti vanno giù Anche se inizi C'hai i vestiti Che puzzano di fritte Ma è incredibile Provi a mangiarne un'altra Ti viene un conatino Vai in bagno E fai una sboccatina Voglio dire Cioè Al netto di tutto Sono cinque fette di pizza Con un Cioè Questa pizza con le patatine fritte Che la digerisci Da settimana dopo Non lo so Cioè Faccio fatica a parlarne Perché mi servirebbe Uno Cioè vorrei andare più Nello specifico Di ogni singola cosa Certo Però veramente Un'ora solo per andare Nella data speciale A prendere i casi Ma Sì e no Perché in realtà Cioè È interessante Ma è interessante più Per l'aspetto Cioè per l'aspetto Di produzione Che non per l'aspetto Effettivamente di scrittura Cioè Sembra quella cosa Che appunto Nasce da magari Un'idea Che poteva piacere Ok Ci fanno una prima stagione Che è anche carina Decente Voglio dire Simpatichetta Ok Una cosa che magari Poteva essere una stagione Autoconclusiva La portano avanti Per due Tre stagioni La fanno diventare Sempre più gonfia Sempre più lunga Ma per chi È la domanda Cioè La risposta è Perché Apple TV Plus Per Tim Cook È la risposta Esatto Perché Come Netflix Che si diceva prima Ci vogliono fare Non è per fare sempre La critichetta Oh Power Pizza Deve stare lì A criticare Però Nel senso È veramente Dici Per chi è creata Questa serie Perché Raga Io anche Andando su Reddit Cioè anche la gente Che è tipo R slash Ted Lasso Cioè nel senso Anche la gente Che amava le prime due stagioni Cioè la terza dice Raga ma è fucking imbarazzante Dio santo Cioè E quindi dici Ma perché produttere queste cose Che costano soldi Se appalesemente a nessuno Gliene fotteva un cazzo Di scrivere una cosa Bene Maledizione Mi sembra che Allora Questo è un ragionamento Che non ha delle basi Su cui mi sto appoggiando Mi sto appoggiando Su dei feeling Che sto avendo In questi ultimi anni Ok Però mi sembra Che ci sia Sempre più Il Sarà il capitalismo Saranno Probabilmente Probabilmente è quello Però diciamo che Mi sembra che ci sia Sempre più La necessità Di riempire Degli slot A tutti i costi Nel senso Che Apple TV Plus La prima stagione Di Ted Lasso È andata bene Quindi facciamo altre due Assolutamente A prescindere da Se abbiamo delle idee È quello esatto È sempre quello Sì oppure Problema di tre corpi Benissimo Questa serie deve uscire In queste tempistiche Punto Oppure Cioè nel senso Ci sono un sacco di cose Che escono Perché devono uscire Tantissimi contenuti A una velocità Veramente Insostenibile Per la scrittura Soprattutto Perché la scrittura Ha bisogno di tempo La scrittura Però purtroppo È la colonna portante Di qualsiasi cosa È l'80% Perché tu puoi appunto Puoi rendere una cosa Ancora più appetibile Con le attrici Gli attori Gli effetti speciali La messa in scena Quello che vuoi Ma la colonna Che ti serve È avere qualcosa Da raccontare Maledizione Esatto Quella è la ciliegina Sulla pizza Ma la pizza Deve essere buona Nel senso Devi avere tempo Per farla lievitare Se ci metti più lievito Componente economica Cioè tu stai creando È una componente Un po' precario È una curva obbligatoria Poi sempre guadagnare di più Siamo su un pianeta Che è un sistema chiuso Quasi Insomma Arriva C'è il sole E quindi C'è veramente Questa cosa qua È snervante Comunque Perdonami Veramente L'ultimissima Di queste infinite parentesi Ma comunque A me il personaggio Di Ted Lasso Cioè se all'inizio Mi stava simpatico Anche nel suo essere Eccessivamente Holes Cioè dice proprio quello Dai Io alla fine di tutto Era il personaggio Che mi innervosiva di più Proprio perché Appunto Quello che ho solo accennato prima Non è cambiato Di positività tossica A parte questa cosa qua Del Ah Basta sempre crederci Ah Believe Ah Basta metterci il cuore Vaffanculo No Non funziona così la realtà E non è ispirazionale Dire una cosa Che è palesemente Una menzogna Tra l'altro Mi prende anche Delle sfumatore Di progetto Proprio egotico Dato che Sudekis Oltre a interpretare Un personaggio Che di fatto è perfetto Perché non ha difetti Sì ok Ha il difettino Nel senso che Uh Non vai in terapia Quando dovrebbe andare C'ha gli attacchi di panico Ma regà Al netto di tutto Lui è Dio in terra Praticamente È un personaggio Totalmente positivo Se tu interpreti Questo personaggio Ultra positivo E lo scrivi anche Cioè per me I casi Sono due O tu sei veramente Nella vita reale La persona migliore che esista O sei una merda Egotica Perché non può E dato che Non credo che la perfezione Esista perché Non è di questo mondo Cioè io inizio anche A insospettirmi un attimo Che mi sembra veramente Uno di quegli ego Project incredibili Di lui è anche Brad Coltin Che fa Roy Kent Ha scritto Diretto Gran parte della serie Però Roy Kent funziona Per qualche ragione No assai perché funziona Roy Kent Perché è un personaggio Perché è negativo Esatto Perché Roy Kent Ha molti difetti E quindi un arco Che me lo fa vedere Crescere e migliorare Funziona molto di più Se il personaggio Perfetto positivo Ted Lasso È perfetto positivo All'inizio Ed è perfetto positivo Alla fine Che cazzo me ne frega A me di quel personaggio Voglio dire E quindi se volete Un'altra roba Tipo di Bill Lawrence E Roy Kent Brad Goldstein Shrinking Ve l'avevo consigliata Un po' di tempo fa Ah c'è anche lui? No non c'è lui Ma la scritta Ah ok 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 Scrittore Produttore Esecutivo Eccetera E appunto Sì ci sono altri personaggi Che fanno gli attori Però Shrinking Mi era piaciuta Veramente Abbastanza tanto Però è una prima stagione La seconda e la terza Potrebbero fare schifissimo Vabbè comunque è stenuante Questa cosa Ecco niente Cioè nel senso Ma proprio come concetto La serie in sé Per assurdo Cioè nel senso Non è una cosa Che la vedi E dici Cioè poi magari Ti rompi le balle Come me E la pianti lì A metà dell'ultima stagione Però è una cosa Comunque estremamente leggera Estremamente guardabile Anche nei suoi momenti Più bassi Però veramente Proprio il discorso Che ci sta dietro Proprio questa cosa qua Del prodotti soulless Completamente senza anima Cioè io lo trovo Sempre più estenuante Ti giuro Faccio veramente fatichissimo Vabbè insomma Si fa anche più fatica Poi a dire Ah no Non bisogna fare le AI Che scrivono le storie Del posto nostro Perché se voi Le storie che scriviamo Sono come Se le avessero fatte le AI A stappunto Facciamole fare a loro E noi andiamo a pescare Sì vabbè Sì vabbè Allora una cosa bella invece È che la gente Ci dà dei soldi Vorrei Potevo parafrasarlo In una maniera migliore Ma amo particolarmente Cioè dei soldi Per sviluppare La nostra creatività Non so se La nostra è creatività Se letteralmente Poi veniamo qua A lamentarci Delle serie televisive Lamentarci In maniera appropriata Cioè è come andare Al bar E vedere due sciroccati Che stanno parlando E dargli dei soldi Per poterli ascoltare Sì ma questi sciroccati Ci sono ogni venerdì E sono simpaticissimi Quindi allora Grazie alle persone Che supportano Da tempo in memore Come piacerebbe dire a Nick Powerpizza su www.datecideisoldi.com Nello specifico I calzoni Oggi erano a tema Gioie e sentimenti positivi Mi sembra di sì Bellissimo Fantastico L'ha detto Nick Ma poi è morto Tipo Non mi ricordo Forse voleva recensire Inside Out Comunque a proposito Grazie a Gioia Punto di domanda Penultima settimana Del calzoni di compleanno Grazie Slide Da Masta Grazie alla speranza Che Glauco e Carlone Vivano nuove Attempate avventure Districandosi Tra misteri Magia Organi E gettoni Glauco e Carlone Sono i protagonisti Delle nostre ultime due speciali In cui abbiamo giocato A Green Oaks Un tabletop RPG Non un RPG Grazie Mark Evans Mega portiere Con la mano gigante Questo era il calciatore Il segno della scorsa E grazie alla gioia E le risate Mentre ascoltiamo Le puntate È la poesia più breve E più bella Che abbiamo mai letto Grazie a Quando Cacchi È un bel momento Effettivamente È un'emozione E grazie a Varg A cui si scalda di gioia Il cuoricino Per ogni raggio di sole Bassa tempeste Voglio solo la primavera E Moji Che piange tantissimo Disse trasferendosi Nel Regno Unito Dove c'è proprio La primavera Che comunque Io farei scambio Istantaneamente È proprio zero problemi Effettivamente Comunque grazie Inazuma Surf Nico Che segna goal Scivolando Creando effetti magici Ora campo di olio E benji a dritta Verso gli spogliatoi Tra l'altro L'ho beccato A Romics È passato E si è fatto disegnare Lui che scudo surfa Verso il Romics Ci sta Grazie 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 Non so La gioia È mangiare la pizza Grazie Era quello che stavo Cercando di dire La prossima settimana Ricordatevi calzoni Di trasformarvi In tribunale Il tribunale È il tema Della prossima settimana E vogliamo Nell'after show Perché dobbiamo Devo comunicarti Qual è la puntata speciale Di questo mese Quindi Che cosa Io non la so già Non vedo l'ora Che me lo dici Speravo che potessi Almeno Fingere Maledizione Dall'orro è tutto Grazie Nenno Pizza e chiudo Pizza e chiudo Ciao Nick Ci macchi Ciao Ciao Nick Un podcast Veramente bellissimo Guarda Ve lo consiglio Proprio Punto com